non rispondere ma non è scontato quanto costa un fuori servizio per il cliente e qui in questa slide sono riportati dei valori sono le perdite in euro a secondo del segmento applicativo del cliente se si occupa di trasformazione di prodotti alimentari farmaceutico dipende assolutamente dipende ma sono numeri qualunque questi siano davvero sempre molto importanti fino ad arrivare nel caso di ospedali a rischi che non possono essere accettabili ovvero oltre di perdere dei soldi anche di perdere delle vite umane. E allora cosa succede? Con tutto questo contesto con tutti questi nuovi bisogni e implicazioni in casa dei clienti cosa succede? Succede che abbiamo visto quanto è importante proteggere e assicurare la disponibilità dei dati. Dove si fanno i data center? Chi di mestiere gestisce i data center? Queste cose le sanno molto bene da sempre, tant'è che in contesti come i grandi data center da sempre si preoccupano di ridondanza, probabilmente qualcuno di voi è stato coinvolto in qualche progettazione per il data center, sa bene quanto tutto è assolutamente rattoppiato, ridondato meglio dire perché un eventuale guasto da una parte possa essere coperto da una ridondanza funzionale di una precchiatura simile a quella che si è guastata. Sappiamo molto bene quanto in questi contesti il monitoraggio è assolutamente essenziale e riconosciuto come must, come necessità. la sicurezza, lì ci sono cose importantissime e allora bisogna anche garantire che queste siano al sicuro anche dal punto di vista di accessi da parte di personale non autorizzato o non formato, tutto ben organizzato perché le cose si sappia bene dove si trovano, perché l'infrastruttura, il sistema, la soluzione, l'impianto sia sempre ben conosciuto e ben organizzato dal punto di vista anche della documentazione, della gestione perché in caso di problemi si spenda meno tempo possibile a ripristinare e infine per quest'ultimo aspetto lì c'è normalmente presente del personale IT fortemente specializzato perché nel momento in cui si verifica un problema lo si possa risolvere in tempi decisamente stretti e rapidi. Quando invece il dato non è gestito nei grandi datacenter, non è gestito in un datacenter, ma abbiamo detto sempre di più, deve essere gestito anche localmente. Ecco in questo localmente normalmente cosa succede? Probabilmente quello che vedete in questa immagine. Quindi quelle che abbiamo imparato prima, essere chiamate applicazioni locali di edge computing, normalmente oggi li associamo a armadi rec senza sicurezza, nessuna ridondanza, mancanza di condizionamento dedicato e quindi anche rischio di far durare le apparecchiature di meno del previsto, nessun monitoraggio, nessuna gestione, mancanza di personale locale competente. Lascio a voi le riflessioni per valutare quanto spesso, non voglio assolutamente dire che è sempre così, ma lascio a voi le riflessioni su quanto poi effettivamente e quanto spesso questo realmente accade. Dobbiamo ricordarci che creare nodi dell'infrastruttura IT, modo che ci sia la possibilità di gestire i dati in maniera sempre più vicina a dove i dati vengono generati, il fatto implica anche che l'edge computing verrà adottato non solo in ambienti similari a quelli IT, il locale tecnico ben protetto, ben pulito come un ambiente cosiddetto white space, quindi è particolarmente attenzionato dal punto di vista delle condizioni climatiche, ma sempre di più di conseguenza ci sarà la necessità di realizzare edge computing anche dove ci sono condizioni non proprio perfette. Ambienti tipo uffici, magari open space, dove c'è il problema che apparecchiature di tipo possono fare particolarmente rumore, c'è il problema che le apparecchiature possono essere fin troppo facilmente accessibili, fino a pensare a cosa succede in ambienti industriali dove ci sono anche condizioni molto gravose da punto di vista di sporco, umidità, temperature non proprio controllate e così via. Altro tema, e mi avvio a chiusura della mia parte, su cui mi invito a riflettere è questo, oggi cambia la percezione di fuori servizio e di conseguenza deve anche evolvere la gestione operativa. Qual è l'attuale, forse sarebbe meglio dire, il vecchio paradigma? In un mondo dove c'è sia la parte IT sia la parte OT. IT significa Information Technology quando diciamo OT intendiamo la tecnologia operativa, l'impianto, le macchine, quella parte lì. Molto in sintesi, abbiamo da una parte magari un IT manager, dall'altra parte un responsabile di manutenzione, un facility manager, poi non mi soffermerei sul titolo, ma abbiamo normalmente squadre, figure, persone distinte, perché giustamente hanno specializzazioni diverse, che si occupano della loro rispettiva parte e normalmente tentano anche a privilegiare alcune parti del sistema, perché storicamente le abbiamo sempre considerate più critiche. L'IT manager ha da curare in modo attento il data center, perché se casca quello è un problema molto più critico che di altre cose e magari l'Operational Technology manager, il facility manager, il manutentore tende normalmente a fare particolare attenzione che la distribuzione elettrica primaria, la cabina non abbia problemi, perché se c'è un problema lì, caspita, si ferma tutto. Sto un po' semplificando il concetto, ma cosa che voglio arrivare a dire? Che in ogni caso questo paradigma è diventato superato. Oggi abbiamo convergenza dal punto di vista delle tecnologie che sempre di più si intrecciano, le tecnologie operative che sempre di più si basano sulla infrastruttura IT per poter funzionare, e dall'altra parte questo deve generare anche un approccio diverso da parte delle figure all'interno del client che le gestiscono. Quindi è il facility manager che devono collaborare tra di loro, perché magari una funzione del facility manager potrebbe aiutare, il primo, a recuperare velocemente un problema su un sito periferico e allo stesso tempo deve cambiare anche la percezione di fuori servizio, perché oggi un fuori servizio sul sito più periferico è critico o addirittura può essere più critico del fuori servizio nel sito centrale, nel grande data center oppure nella cabina. Perché? Perché il fuori servizio sul nodo periferico, sull'utenza periferica potrebbe essere, anzi normalmente lo è, che è molto più critico da risolvere e da recuperare. Non ho le persone super competenti, specializzate che sono lì disponibili, se provate ad immaginare un'azienda che ha N filiali, normalmente le persone specializzate in ambito IT le tiene vicino alla sede centrale dove magari è in data center e così via. e di conseguenza la questione adesso non è più quanto sia attuale realizzare e poi proteggere l'edge computing. Il tema è quanto questo può essere e come può essere implementato in modo efficiente, semplice ed efficace. Riassumendo molto rapidamente e recuperando un po' i concetti principali che abbiamo visto insieme in questa parte, cosa ci stiamo dicendo? Che architettura IT ibride e industrial IoT sempre di più aumentano la necessità di alimentazioni elettriche sicure e di conseguenza qual è la risposta? Sempre di più sarà utilizzare UPS che dovranno essere di nuova generazione per poter rispondere meglio alle nuove sfide perché devono essere più efficienti, visto che se ne mette di più, dovranno costare meno, ma non tanto costare meno nel momento dell'acquisto, quella parte è una parte minima del valore di spesa per il cliente, ma costare meno per tutto il totale ciclo di vita e quindi di possesso del cliente, essere più compatti, essere più leggeri, essere idonei alle installazioni in ambiti IT e in ambienti industriali. Questa parte la vedremo in maniera un po' più approfondita e anche la parte che tocca un po' di più gli aspetti impiantistici, elettrici e lo vedremo di conseguenza con Laura dopo di me. Altro bisogno, riassumendo sempre, il computing sempre più distribuito richiede architetture più robuste e semplici da implementare. Di conseguenza abbiamo bisogno di soluzioni semplici per infrastrutture edge computing che siano preconfigurate, preassemblate, facilmente scamabili, che in qualche modo vadano ad avvicinarsi in termini di resilienza, di protezione, di gestione anche delle condizioni climatiche a quello che di fatto si fa nei grandi data center. Stiamo parlando di micro data center, quello che vedete nelle immagini è un esempio, è uno dei nostri micro data center e ovviamente tra le varie caratteristiche che deve essere possibile installare sia in ambienti che hanno le caratteristiche tipiche IT ma anche ambienti industriali, ambienti cosiddetti non IT. Ripeto, quello che dicevo prima, quello è nell'immagine un esempio, ma poi ci sono tantissime forme si arriva fino al container, quindi un micro data center già pronto magari anche per quei clienti che non hanno possibilità di creare spazi importanti quando questa è concretamente una necessità ma si arriva lì passando da soluzioni ben più compatte come soluzioni che hanno anche la possibilità di mimetizzarsi meglio in un contesto uffici come micro data center rifiniti in legno oppure micro data center che sono piccole cassette ma con caratteristiche importanti sia in termini di protezione ma anche in termini di monitoraggio, questo è un esempio il nostro micro data center da 6 unità REC. Infine, infrastrutture IT sempre più distribuite richiedono più efficienza operativa e capacità di anticiparli i guasti dobbiamo assolutamente anticiparli, come lo facciamo? lo facciamo con sistemi di monitoraggio nuovi che sono cloud based ma innovativi perché recuperano continuamente informazioni dalle apparecchiature, dalle infrastrutture offrono un monitoraggio intelligente e quindi che permette di recuperare i cosiddetti insights sullo stato di salute delle apparecchiature, degli asset loro collegati. quindi è possibile integrare terze parti che siano ovviamente sicuri e facili anche da configurare e un'ulteriore necessità assolutamente prese in conto. E questo in Schneider Electric ha un nome, si chiama EcoStruxure IT e EcoStruxure IT a sua volta è parte di una piattaforma completa di Schneider Electric la piattaforma digitale che permette di gestire in modo efficiente ed efficace e quindi di far risparmiare soldi ai clienti in un contesto sempre più digitalizzato e oltre a essere specifica per l'ambiente IT, per le infrastrutture IT può trovare declinazione, anzi ha le sue specializzazioni anche in ambito edifici, in ambito di distribuzione elettrica, macchine, edifici industriali, plant e reti. Vi saluto con questa parte e lasciandovi un ulteriore e ultimo stimolo da parte mia. L'internet delle cose è un'evoluzione pervasiva, non la gestiamo, è un'onda che ci travolge e quindi dobbiamo portare a casa nuove competenze professionali. Con nuove competenze professionali possiamo portare valore al cliente, noi crediamo tantissimo nella figura del progettista perché riteniamo che sia il nostro principale e ha maggior valore aggiunto tramite per comunicare col cliente finale. Ovviamente sappiamo che non si può essere specialisti di tanti ambiti, ognuno è specialista del proprio ambito, ma la trasformazione digitale in atto richiede comunque nuove competenze, le cosiddette nuove skills che permettono di interpretare quello che sta succedendo, continuare a essere visto dal cliente un consulente che quindi lo accompagna nelle scelte, lo accompagna ad adottare le proprie soluzioni e per quanto ci riguarda ovviamente poi siamo a disposizione per supportare quando la tematica è specifica. Come sempre grandi trend portano nuove sfide che richiedono nuove competenze ma che sono anche delle grandi opportunità. quindi l'invito è che questa innovazione sia davvero abbracciata perché possa portarci verso nuove strade, verso un futuro dove appunto possiamo cogliere nuove opportunità. da parte mia è tutto, lascio la parola... ...